ciao a tutti e benvenuti su my football jersey oggi vi presento la maglia da trasferta del manchester city una delle mie maglie preferite di questo 2021-22 la maglia bianca se vogliamo l'apparenza semplice ma dotata secondo me di una grande eleganza grazie ai suoi particolari sfumati come ad esempio lo stemma che è termosaldato così come il logo della puma e lo sponsor frontale tutti i particolari che rendono secondo me la maglia molto particolare e molto ben fatta molto piacevole che piacerà sicuramente ai più giovani la maglia ha una trama semplice nella versione player che è quella che state vedendo puma utilizza la tecnologia dry cell una tecnologia che aiuta a mantenere la sensazione di asciutto e di comfort anche durante la partita o l'allenamento più intenso il collo è al buco e sul retro riporta la scritta citizen giving l'associazione benefica sostenuta della squadra in controluce si può anche notare la trama del tessuto dry cell sulle spalle è presente il logo puma sempre sfumato e sulla spalla sinistra destra per chi guarda è visibile il secondo sponsor della squadra sul retro la maglia è completamente bianca indossata la maglia molto bella e confortevole io sono alto un metro e 75 e quella che state vedendo è una taglia l della versione player per oggi è tutto vi aspetto al prossimo video se il video vi è piaciuto mettete un like e iscriviti al canale per rimanere aggiornati grazie a presto